È partito fortissimo, un po' come il resto della squadra, sfornando grandi prestazioni e soprattutto cross a ripetizione, una manna per i terminali offensivi del Piace di Franzini. Davide Di Molfetta si sta rendendo protagonista di un avvio di campionato a dir poco sontuoso, spina nel fianco per le difese avversarie e quest'anno, ancora più che la passata stagione, sempre nel vivo del gioco. Ti vediamo più agguerreto, più convinto, più cattivo anche naturalmente sportivamente parlando rispetto alla passata stagione. È solamente un'impressione oppure è veramente così? No, come hai detto te siamo partiti veramente forti tutta la squadra e quest'anno abbiamo una grande rosa. Facendo il ritiro comunque con la squadra con cui dovrei affrontare l'anno è una cosa importante, mentre l'anno scorso venivo da un periodo difficile a Vicenza, adesso bisogna continuare su questa strada. Il Piace quest'anno ha un parco attaccanti veramente di primissimo livello. Incide positivamente magari su di te il fatto di avere una concorrenza così agguerita lì davanti? Beh sì, sicuro la concorrenza ti incita ogni settimana ad allenarti sempre al 100%, metterci sempre qualcosa in più, perché comunque essendoci di tanta concorrenza diventa poi difficile anche per l'allenatore scegliere chi va in campo la domenica, quindi bisogna ogni allenamento, bisogna dare il 100%. In questo avvio ti stai rivelando veramente decisivo in zona assist, manca tuttavia solamente il gol per essere proprio veramente al 100%, è una pecca sulla quale magari stai lavorando? Sì sì, ci sto lavorando sempre, anche a fine allenamento spesso mi fermo a calciare in porta, manca solo quello in questo momento che per un attaccante è troppo importante, però la sto vivendo serenamente, sono molto tranquillo, quello che conta comunque è cercare di aiutare sempre la squadra. Il gol arriverà, può essere questa la stagione buona magari per salire in Serie B? Il nostro obiettivo è di arrivare il più in alto possibile, però senza pressioni ce la stiamo vivendo serenamente, però certo che se continuiamo così poi diventa difficile per tutti, bisogna affrontare ogni partita sempre con la testa giusta, perché la Serie C è una categoria strana, nessuna partita non è mai facile. Dobbiamo continuare così e secondo me con questo sacrificio, con questa voglia che ci stiamo mettendo in campo la domenica, secondo me possiamo arrivare veramente lontano.